La contaminazione di musiche e generi è il principale filo conduttore delle otto serate del fortissimo Classica Festival organizzato dal Conservatorio Tchaikovsky di Nocera Terinese diretto dalla maestro Filippo Arlia nell'ambito del Campus AFAM. Il centro residenziale Colonia San Benedetto di Cetraro è la suggestiva cornice del live di Mariella Nava, cantautrice pugliese che ha segnato la storia della canzone italiana d'autore, il suo concerto note di donna, è unico e raffinato. La Nava è un'artista grandiosa che ha calcato i palcoscenici importanti come quello di Sanremo e non solo e per noi è motivo di orgoglio averla qui al fortissimo Festival e penso che lei possa dare ancora di più con la sua voce forte il segnale di ripartenza per i musicisti e per lo spettacolo in generale che in quest'ultimo periodo ovviamente lo ha visto sofferente.